Ciao ragazzi bentornati su Tutti la Chitarra, anche oggi come ogni venerdì vi presento una canzone ma questa canzone contiene un regalo speciale, ve lo dico alla fine del video intanto iscrivetevi al canale e poi cominciamo subito a suonarla insieme Grazie a tutti 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 Ti ricordo che se vuoi vedere un altro video trovi qui tutti i link che ti servono altrimenti per la video lezione completa viene a cliccare giù nelle note dell'episodio Buon divertimento Grazie a tutti Grazie a tutti